L'incontro al Ministro Lezzi di ieri è un incontro molto molto importante che conferma un livello di cooperazione istituzionale molto valido, con soprattutto alcuni componenti, alcuni ministri, alcuni esponenti di questo governo. Abbiamo parlato di infrastrutture cittadine, di opere pubbliche, di risorse di destinare alla città, abbiamo parlato diffusamente di bagnoli con una discussione davvero molto proficua e di grandissimo interesse per la città, di cui poi avremo modo di parlarne insieme al Ministro dopo la ripresa delle attività istituzionali nazionali, ma quello che possiamo già annunciare adesso, che è una notizia straordinariamente bella, e questo è un lavoro che abbiamo fatto io e la Ministra Lezzi, ci abbiamo lavorato in queste settimane, destinare immediatamente, con una delibera che sarà approvata, detto il Ministro, entro la fine di settembre, una somma di circa 50 milioni, che era il finanziamento che mancava per la realizzazione della seconda parte del progetto Restart Scampia, che è quello che viene dopo l'abbattimento, cioè la rigenerazione urbana di Scampia, la realizzazione dei nuovi alloggi, dell'housing sociale, degli asili, dei luoghi con cui riqualificare l'area, verde, attrezzature, e quindi questo significa che noi già dagli inizi del 2020 potremmo partire anche con i bandi e legare per quanto riguarda la seconda parte di Scampia. Quindi questo è un risultato straordinario, frutto di un lavoro importantissimo del territorio, di questa sinergia tra Comitato Vele, istituzioni cittadine, tra cui le università e poi soprattutto il Comune di Napoli, un lavoro politico fatto con la Ministra Lezzi importante, a cui devo dare atto di aver colto la rilevanza strategica nazionale del progetto Vele, finanziare la seconda parte, e quindi un successo di Scampia, un successo di Napoli, che finalmente questo Ministro lo fa diventare sempre di più un successo per l'intero Paese. Credo che poi annunceremo nei dettagli con un'iniziativa congiunta che faremo insieme a Scampia, con la Ministra Lezzi, credo verso fine settembre, questa è un po' l'idea che ci siamo dati.